Ogni anno in Italia 40.000 neonati nascono prematuramente, nel mondo sono 15 milioni e di questi un milione non sopravvive. Eppure con interventi cost effective la maggior parte di questi bambini potrebbero essere tratti in salvo e per questo è stato inaugurato presso la caserma di Castro Pretorio un servizio di soccorso e trasporto neonatale in eleambulanza. Si tratta di una culla termica per neonati che nascono prima della 37esima settimana di gestazione, donata al Policlinico Umberto I da Fiderfarma Roma e che avrà come punto di riferimento alla piazzola della caserma Macao, che in base a un accordo con il Ministero della Difesa prosegue ad essere a disposizione del Policlinico come base di atterraggio per le eleambulanze regionali anche nelle ore notturne. C'era bisogno di poter utilizzare una struttura delle forze armate per avere una base per l'elissoccorso e per tutti gli interventi che possono essere necessari e abbiamo subito trovato una disponibilità da parte dell'esercito così come la troviamo quando ci sono calamità naturali, quando ci sono le esigenze più disparate. Spessissimo noi siamo chiamati per esempio per il trasporto d'organi, quando ci sono delle esigenze sanitarie. L'elissoccorso ci permette di entrare entro la Golden Hour, intervenire in casi difficili, salvare vite umane e quello di oggi con questa meravigliosa STEM, c'è una culla termica, con un servizio unico in Italia credo che sarà veramente di grande supporto per la rete neonatale laziale. Il servizio sarà attivo da domani e dal momento in cui verrà preso in carico il bambino si troverà in una vera e propria terapia intensiva neonatale. Per i casi più gravi dalla piazzola partirà anche un team medico dell'Umberto I specializzato in neonatologia e che assisterà il piccolo durante il viaggio.